Adesso abbiamo un gran finale, usciranno tutte le ragazze insieme e uscirà Beatrice Rocco per la linea Roccomare e per te chi là uscirà Antonella Rocco, quindi adesso preparatevi a questa diciamo parata di moda. Beatrice Rocco, gli merita tutti gli applausi. Per te chi là Antonella Rocco. Grazie. Grazie.